Una ventina di migranti al giorno in arrivo a Ravenna, provenienti dal Lab di Bologna. Sono sottoposte le visite mediche e i controlli poi vengono accompagnati nei centri di accoglienza del Ravennate. Si tratta in particolare di senegalesi, nigeriani e ganesi. La situazione è sotto controllo? Chiaramente in questi giorni sono arrivati sul territorio nazionale molti migranti perché una parte di essa viene affidata a noi. Con la collaborazione preziosa delle amministrazioni comunali, secondo il sistema di cui più volte abbiamo parlato, quindi di una distribuzione capillare sul territorio, noi certamente con un impegno notevole e anche con difficoltà stiamo dando accoglienza a questi migranti. Ma questi migranti che vengono controllati sono passati dal Lab dove si compie il primo screening sanitario? Il nostro sistema regionale, di cui noi siamo molto contenti, prevede comunque un passaggio al Lab. Certo, alcune volte il passaggio al Lab è più lungo, nel senso che quando non ci sono arrivi molto, diciamo, come dire, intensi, al Lab i migranti si trattengono per più tempo. Evidente che in questi giorni si sono potuti trattenere meno tempo. C'è comunque sempre il passaggio al Lab, una prima visione anche a carattere sanitario, però evidentemente questa può essere meno approfondita, ma noi indipendentemente da questo, qualsiasi migrante arriva in questa provincia viene sottoposto ad un primo screening sanitario. Grazie. Grazie.